E mi riferisco all'articolo 110 bis, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta che ha fatto questo Governo, gli invisibili saranno meno invisibili. Allora, Ministra Bellanova, lei si riferiva alla regolarizzazione degli immigrati che è stato inserito nel decreto rilancio del Governo. Ieri sera avete presentato in conferenza stampa questo mega decreto di 55 miliardi. Ma Salvini le sue lacrime le ha commentate così. La Fornero 2, che piange per i poveri immigrati, con tanti saluti agli italiani disoccupati, non commuove nessuno. Lei come replica? Ma io non faccio una colpa a Salvini per non conoscere la povertà, la fatica, la disperazione di sentirsi considerati niente, di essere considerati degli scarti. Le ne faccio una colpa invece nel non cercare di capire, di comprendere che cosa questo significa e quanto è importante riconoscere alle persone dignità, soprattutto quando quelle persone non hanno voce e sono considerati...